Salvini e Renzi Salve non c'è più, il Copenso gli ha dato le sue schifezze peggiori, due scorreggie fritte, da una parte Verdini, dall'altra parte Alfano che lo stringono, è una cosa asfisiante, Alfano è una puzza umana. Va bene, torniamo un attimo seri, anche per i telespettatori, se si vuole ridere si ride, se no torniamo un attimo seri. Non è che ridono, perché più vuol dire ridere, è una considerazione precisa, Renzi è un uomo di sinistra che fa fra due uomini di destra, quindi non c'è niente da ridere signorina, non c'è niente da ridere, aspetta di fare la predica, rida con altri. Ho detto che sono due scorreggie fritte, sono due scorreggie fritte, io offendo chi parla a me, pagherò io, si faccia i cazzi suoi, si faccia i cazzi suoi, offendo chi parla a me. La sostanza è giusta. L'insufficienza, l'insufficienza, l'insufficienza dei due ministri... Permettiamo però a tutti di offendere tutti, allora... No, va bene, va bene, l'offeso è di tanto, è stato anche in politica, ci sta. A me mi ha colpito perché tu scorreggia fritte. Va bene, superiamo le impasse, però ci ha detto, l'insufficienza delle questioni in ballo è l'insufficienza politica, c'è tutta. Il dato su Giacchetti era questo, il ministro Boschi dice che noi governeremo fino al 2018, c'è chi invece dice che andiamo alle elezioni. Questo però fa capire la fragilità che c'è in questo momento. Aspetta, andiamo in pubblicità e dopo salutiamo Dago e torneremo a parlare della situazione politica e dell'equilibrio di maggioranza. In termini, ok, dì. A tra poco.